ebbene a tutti voi ragazzi e ragazzi sono il vostro caro mastro king e benvenuti in questo nuovo video siamo qui sulla wayward wonders allora diciamo dall'ultima volta sono successo un bel po di cose diciamo che mi hanno fatto letteralmente fuori e quindi diciamo mi ero contenta diciamo dell'armatura non incantata se è vero di diamante pur sempre non incantato questi due libri non mi servono e questa spada che mi dà comunque 0.04 velocità in più però mi dà gli 4 ore però comunque a sharp nessuno quindi non è che sia proprio una cosa proprio fatta male fatta male allora diciamo che ora come ora una cosa che devo fare è cercare comunque di esplorare il più possibile quella zona perché si è vero comunque monumenti tutto però dalla mappa si può vedere che appunto ci sono cioè non solo la mappa comunque si può sapevo che non solo ci sono dei dei mappe monumenti e le mappe delle lane pensi ci sono anche altre tipologie di dungeon tipo quello lì non solo diciamo diciamo un po che non registro la serie e quindi non solo le cose che ho esplorato oppure no questo mi sembra di no perché non me lo ricordo ma tanto lo capiremo subito infatti no però posso far fuori diciamo subito questo zombie e provare a scendere diciamo che mi scordo sempre cioè questo giro mi sono scordato delle torce allora come prima cosa è vedere se ci stanno dei spawner qua in giro ovvero sì ok quel ragno lì non mi attacca eh cavolo l'ho pure avvenenato ecco sono morto pure in questo caso eh ok ok no 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 lo sapevo allora questo perché comunque c'avevo allora perché vi spiego avevo la cioè comunque cuore e meno e cose del genere allora l'unica cosa che posso rifarmi è l'armatura questa volta in ferro purtroppo e non posso praticamente di te mi ero scordato legno non ne ho vero? no 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 quindi l'unica cosa che posso fare appunto è ritirare cioè prendere il del legno qui in zona e basta Ok Creaver esploso Prendere un po' di grano Così da avere quel minimo di cibo Che ammetto Meglio avere il cibo in più Piuttosto di avere il cibo in meno Dire l'autoposto numero 3 Ok Siamo nel deserto E' mezzogiorno ok Qui c'è una mulla Mulla si chiama Non è strano Però Un ascia di pietra Un altro brick Questo non c'è Sembrerebbe non esserci nulla Comunque qui siamo in Cioè comunque qui c'è un Una foresta C'è una giungla Direi di approfittarne no Uh maiali Comunque sperau in una mini farm Tigrano Anche se comunque Un paio di maiali Vedi faccio tranquillamente fuori Sembrerebbe qualcosa di carino Quello eh Vedi pure un villaggio Comunque Vi toglierò tutte le parti Cioè come ho detto ieri Era live Vi toglierò tutte le parti Eccolo qua Giardini pensi di Babilonia Comunque vi dicevo Vi toglierò tutta la parte di Di tosse Faccio Ieri non potevo Perché stanno in live Era un po' più complicato Invece ora Stando in In video Il problema non si pone Ok Trovo le carote E delle patate Sicuramente ora Tanto è inutile Le ripianto Perché Non Non penso Che ci tornerò mai Qui Proprio prendo pure Le patate Per Perché se almeno Una parte a casa me le cuocio L'altra parte me le pianto Pure qui non c'è nulla Vero? Esatto Oh lì c'è un villager E la cosa Penso che sia un farmer E la cosa comunque Ci sia un villager Mi piace molto L'unica cosa che Pianterò Sono I semi Normali Perché Occupano Mi occupano Solo spazio E Mi è inutile Nell'inventario Scusate che ora Con questo Abbiamo finito Beh con Quasi due Stacca di Queste Queste Le patate Tanto ora Vado dentro Aspetto che tu Finisci di piantare le cose E poi te le rifrego Un'altra volta Laggiù Simulerebbe esserci La casa del fabbro Quindi ora Purvito E vado Qui Comunque ci sono Tanti villager Probabilmente Si sono spostati Tutti Da questa parte Non lo so Però so Che qui Ci sono Altri Tanto c'è una zucca Sicuro prendo Non si sa mai Due libri Dai Ah si mette Quattro Che comunque È un libro E poi deve essere utile Qui non c'è nulla Vediamo qui C'è una torta Ok Due pozioni Frecce E carbone Direi tranquillamente Di farmi Delle Altre docce Diciamo che L'unica Pecca qui Che non Che non Un letto Ah qui c'è Un E che soprattutto Si sta facendo Notte E la cosa Non è che Mi piace Tanto Infatti È veramente Vero Ok Tanto la cosa Che approfitto Sicuramente È questa qui Quella di Rompere Almeno provare A rompere Tutti gli spawner No No qui No 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 Però Se il Creeper Fosse esploso Qui Lì vicino Non sarebbe Stato male Intanto Mi metto Le garote Qui Nell'inventario Però invece L'altra cosa Posso fare Con la terra Cioè Questa cosa Qui Se riesco A Non farmi Far fuori Ok Ok Spawner Fatto fuori Non dico In modo Tranquillo Però Almeno L'ho fatto fuori Allora No Diciamo Ecco Forse Dovremmo andare In quella direzione Ok Lì c'è uno schietto A formare Qui c'è Semplicemente Del Fieno Niente di più Niente di meno Verilaspiravo In qualche Tipo Di Blocco Particolare Qui c'è un creeper Qui c'è un altro E Ok Creeper Non mi stanno seguendo Ok Però la cosa Posso fare Sicuramente È quella Di mangiare Bene Diciamo Questa Prima zona L'abbiamo Esplorata E Spero Con questa live Vi sia piaciuta Poi C'è stato Questo live Questo video Poi Nel prossimo Comunque Esploderemo La parte C'è proprio L'edificio Verre e proprio Se questo Almeno aspetto Questi manciaggiorno Se questo video Vi è piaciuto Vi raccomando Di mettere Mi piace Di seguirmi Su twitter Instagram Facebook O comunque Vi vedete Ciao a tutti voi Ciao a tutti